Radio 1 Musica presenta Speciale Musicultura 2012 In diretta dalla Sala A di Via Siago in Roma, gli otto vincitori presentano dal vivo le canzoni in gara nelle serate finali del 15, 16 e 17 giugno all'Arena Sferi Stereo di Macerata. Speciale Musicultura 2012, venerdì 8 giugno, dopo il giornale della mezzanotte, su Rai, Radio 1